Tempi duri per la politica, ancora di più per i politici tradizionali, chiamati a fronteggiare anche a Brindisi e Provincia l'ondata di antipolitica e la necessità di un ricambio generazionale. E così, per molti se non per tutti, teniamo fuori dalla problematica i vincitori delle primarie del PD, Salvatore Tomaselli e Elisa Mariano, e Tony Materrelli, Persell, e coaprirsi in quei tanti scenari di prepensionamento, ovviamente politico. È il caso del senatore dell'IDV Giuseppe Caforio, che però non sta ad aspettare l'annuncio, un po' fortuito, arriva a margine di una telefonata. Senatore, ma se non venisse ricandidato e rieletto, questa è la domanda, lei cosa farebbe? La risposta a bruciapelo. Non mi pongo il problema perché sono io a farmi da parte, dice il senatore del partito di Pietro, che ritiene come arriva un momento in cui è necessario fare un passo indietro. A 70 anni, mentre gli italiani fanno di tutto per andare in pensione, ritengo sia giusto che anche un politico abbia questa aspirazione. Insomma, per Caforio, largo ai giovani, guidare una mano, restando attivamente nel partito. Di farsi da parte, invece, non ha nessuna voglia il pidiellino Luigi Vitali. Quattro legislature sulle spalle, ma la ragionevole convinzione di essersi meritato in questi anni di berlusconismo, una deroga e quindi una riconferma. Ma la certezza, dice il parlamentare, si avrà solo nelle prossime ore. E di fronte all'ipotesi di venire trombato, Vitali non si scompone. Continuerei a fare politica, sono comunque consigliere comunale a Francavilla. E ad ogni modo, anche finito quell'incarico, il mio attivismo non verrebbe a mancare. Una passione, quella per la politica, che resta un caposaldo anche per il senatore azzurro Michele Saccomanno, che rimpiange la mancata riforma della legge elettorale. Avrei preferito le preferenze, dice. Così, la candidatura è assoggettata al potere dei partiti, ma promette, in caso di trombatura, di ripartire dal basso, a caccia, dice Saccomanno, del consenso elettorale. L'ipotesi trombatura l'avanziamo anche all'ex presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, pronto a scendere in campo al fianco di Mario Monti, definito salvatore dell'Italia, ma anche lui ancora con il dubbio candidatura. Nel caso, tagliacorto ferrarese, tornerei a fare l'imprenditore con grande soddisfazione della mia famiglia, ma continuerei anche indirettamente a fare politica. Non c'è bisogno di ricoprire cariche istituzionali, chiosa ferrarese, per fare il bene del territorio. Insomma, ai nostri politici le alternative non mancano di certo. Quelle, se mai, mancano agli elettori, ancora costretti ad affidarsi al porcellum, con la consapevolezza che, a fuori escluso, nel maiale solitamente non si getta via mai niente.